Presentata da parte dei consiglieri comunali della lista civica indipendente Maurizio Ferrara e Roberto De Gioia, una mozione urgente che ha per oggetto la carenza del personale infermieristico sanitario triestina. Nella mozione si invita il sindaco di Trieste, quale responsabile della salute della pubblica cittadinanza, in questa consigliatura professionalmente supportato in tali compiti da un'elevatissima presenza di medici e dirigenti sanitari a mettere in atto, per quanto possibile, di competenza o a sollecitare le istituzioni preposte in ogni iniziativa utile al fine di garantire sul territorio triestino una presenza numerica di infermieristica tale da garantire la tenuta e la sostenibilità del buon funzionamento dei servizi e della qualità assistenziale erogata agli assistiti, di garantire la presenza nei tavoli tecnici di consultazione regionale di un rappresentante per ogni categoria di addetti sanitari coinvolti nella riforma in discussione e di, tra virgolette, far pressione affinché l'avvio dell'ITER per l'assunzione di personale infermieristico a tempo determinato e indeterminato avvenga quanto prima.